Dall'inizio della pandemia tre palestre hanno già chiuso i battenti all'Aquila. La situazione non è rosia dopo un anno e mezzo di stoppo forzato e pochissimi sostegni, quasi zero. Le associazioni sportive, ben 17, hanno scritto al Comune dopo essersi riunite in assemblea e dopo il voto contrario alla mozione discussa lunedì scorso e che aveva come oggetto proprio il sostegno a palestre, centri sportivi e scuole di danza. Inutile ribadire il valore delle piccole società che reggono lo sport in città, senza sostegni e a fronte di impianti ma ridotti, spesso con spese e difficoltà enormi per garantire le loro attività. Nonostante le riaperture e le iscrizioni sono crollate, sono dimezzate rispetto al periodo pre-covid e le strutture, oltre agli adeguamenti imposti dalla legge, devono farsi carico anche di assicurazioni per assicurare il servizio in piena sicurezza. Insomma, soldi che escono e che rientrano solo in minima parte con le iscrizioni. Già da marzo le associazioni avevano proposto un pacchetto di proposte inserite nella mozione del consigliere Stefano Albano con il documento che poi è stato discusso e bocciato. Proposte che ora sono insomma carta straccia, ci sono attività che senza risposte adeguate verranno inevitabilmente accompagnate verso la chiusura. Ma c'è anche un altro problema enorme, molte attività svolgono il loro lavoro in palestre delle scuole. L'anno scorso tutto fu interrotto causa covid, la maggior parte delle società ancora non può riprendere l'attività perché mancano le assegnazioni. Tutte le associazioni sportive hanno fatto richiesta al comune. Il problema principale è stato il poco coordinamento che poi come ogni anno avviene tra dirigenti scolastici e associazioni sportive e comune. Perché comunque adesso le normative ci sono, i protocolli covid ci sono, le circolari ministeriali ci sono che permettono alle associazioni sportive in orario extrascolastico di usufruire delle palestre. Quindi noi stiamo in attesa di incontri, cioè il problema è questo che siamo in forte ritardo, i bambini vogliono cominciare a giocare, a fare sport e dopo un anno e mezzo di fermo questo è fondamentale. Il problema delle palestre scolastiche è che non c'è un vero e proprio regolamento di assegnazione, c'è una richiesta formale che l'associazione fa e poi in base a quasi nessun criterio, se non criteri fatti un po' in maniera grossolana, assegnano le palestre in base a mettetevi d'accordo. Ecco, questo mettersi d'accordo non può essere la base dello sport.